Dopo il Sagittario tocca al Capricorno. C'è il Capricorno, per il Capricorno giornata complicata, non avete più nemmeno il sostegno del sole adesso, però ricordo che c'è sempre un mercurio favoloso nell'amico segno del toro, quindi il lavoro certamente in primo piano. Ci sono delle coincidenze anche fortunate che vi favoriscono, l'amore e i rapporti familiari purtroppo risentono di questi transiti. E allora in casa, tra le pareti domestiche e nel rapporto con il partner, c'è sempre qualcosa che non funziona, che bisognerebbe migliorare. Forse dedicate troppo tempo al lavoro.